Il logis e la praxis non vanno insieme, non ci stanno insieme. Tu non potrai mai dire nel campo della ricerca storico-sociale che l'evento X, la serie di eventi X, ha causato una serie di eventi X. Non è così. Potrai al massimo arrivare a delle ricostruzioni dotate di un minimo di probabilità. Weber è molto più un pensatore della crisi che non un pensatore della trionfante ragione occidentale. È il pensatore che sta all'interno della sconnessione, che pensa a una sconnessione tra logos e praxis, tra soggetto e mondo, che pensa la perdita irrimediabile, sostanzialmente, dell'umanesimo idealistico, che è l'essenza della cultura tedesca. Continuamente l'esperienza è questa, che i poteri sociali esistenti si formano, impongono i loro ordinamenti e, rispetto ad essi, i simboli si trovano in posizione di dipendenza. Perché? Perché questa struttura della realtà è una struttura complessa, non riducibile a ragione, completamente studiabile, per carità, attraverso i primi tipi ideali, e soprattutto è una struttura percorsa, ecco, percorsa da un potere fatta. La sostanza di cui è fatto il mondo è il potere. Il potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi, diventano gruppi e impongono forme di dominio, tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitori, finché volete, ma ci sono, configurazioni soggettive che però assumono nella storia pesi, formazioni, costituzioni che non saranno oggettive, ma insomma quando te le trovi davanti sono dei muri, sono delle strutture. È da qui che viene fuori, con l'espressione che lo ha reso celebre, la gabbia del cielo. Quella gabbia non l'ha fatta il destino, non l'ha fatta la provvidezza, ma vuol dire che il paesaggio storico, sociale, economico è un paesaggio che riduce gli ambiti dell'azione, è fatto di azione e al tempo stesso ne riduce. Allora, a fronte di tutti, il risultato primario di tutto ciò è che la marcia della ragione nel mondo, cioè ci sono dei processi tipicamente occidentali che sono processi di razionalizzazione dell'esperienza e al tempo stesso, questo è il punto, razionalizzazione dell'esperienza, razionalizzazione dell'agire, sono anche processi di decostruzione di ogni oggettività. il disincanto, insomma, la parola chiara, il venere in un mondo senza incantesimi è, nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura, e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. Non in forma, certo, poi ne forma di nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza di quelli dai quali abbiamo preso il nostro. esempio, lo Stato moderno. Lo Stato moderno sembra molto consistente. No, in realtà, quando va bene, è molto efficace. Da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? È il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine, diceva, dentro i comuni, i comuni medievali, attraverso le soggettività che lui chiama politiche, gruppi politici, portatori di un potere illegittimo, cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme della legittimità allora vigente, ma attraverso, sostanzialmente, se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale. Cominciata in età molto risparente, una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma, e dai, ecco, quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che, secondo Marx Weber, già secondo i protestanti, è la Chiesa Petrolica. e il suo modo di pensare all'esperienza umana. L'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli che è un'azione ordinativa, razionale, ordinativa, certamente, per carità. In questa azione si distinguono due linee parallele, non voglio dire convergenti, perché le parallele normalmente non convergono. Due linee parallele non, ecco, non intrinsecamente recugnanti l'una rispetto all'altra. Questa, ad esempio, è una delle grosse differenze tra Marx e Marx. sono la linea della razionalizzazione della politica e la linea della razionalizzazione della gine economica. Non sono la stessa cosa, lo Stato non è il capitalismo. Lo Stato non è il capitalismo, quindi non è neanche la sovrastruttura che i borghesi si sono inventati. cioè esiste una specificità della politica che è una specificità e che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria. La politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti, di gruppi che lo organizzano in modi diversi. ci sono le tipologie del potere, la tipologia c'è il potere tradizionale, il potere razionale burocratico e tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a non è vero che si riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione, cioè è impossibile trasformare in burocrazia in procedura, ecco, la terza forma di potere, quella carismatica. la presa diretta del potere sulla realtà, il luogo, la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica e questa essenza potestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere, la tradizione e ciò avviene attraverso ripeto processi specifici di gruppi politici che dall'interno dei comuni mettono il potere in circolazione e poi la riforma e implicitamente le regole e la costruzione dello stato modello che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale, cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive della tradizione. tutto il sforzo di Hegel era di fare dello stato moderno una realtà come dice la parola stabile cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo stato moderno mentre lo sforzo di Max Reb è di dimostrare che lo stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così perché l'Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche dimostrate logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione più disincanti più vedi che il mondo è abbandonato da noi e questo è il potere politico a fianco di esso interagente con esso c'è il potere la dimensione della vita economica anche qui come il potere politico è una questione di soggetti cioè di un capo del suo seguito della sua capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia di dare ad essa una configurazione ordinata il diritto è un positivista giuridico da questo punto di vista non crede nell'intrensia della razionalità della società credo nel fatto che qualcuno oppone così dall'altra parte c'è il processo di produzione capitalistica che ha un'origine individuale la famosa tesi dello spirito protestante un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma ma al massimo si può dire che i riformati credevano quando agivano economicamente di meritarsi anche la salvezza che è un discorso di un certo tipo però in altri luoghi Weber ha detto invece che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e la reddita protestante è lo spirito del capitalismo c'è qualcosa di più perché ci sia il capitalismo ci vuole una tesi di Weber un soggetto un soggetto molto antiguo molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi perché poi tirando le somme la riforma è questo cioè ti insegno che non è più bisogno dell'oggetto fuori di te di Dio per trovare una legittimazione alla tua esistenza la legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso o come diceva Marx bella forza che il protestantesimo non ha pregi mette un pregi all'interno della coscienza di ciascuno le due logiche quella politica che produce lo Stato che è sempre un prodotto di soggetti interessati in questo caso soggetti interessati a esercitare il potere da una parte e dall'altra la logica del capitalismo che è il prodotto di soggetti interessati all'utile vede che non convergono perché le paralleli non convergono però tendono a sovrapporsi tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche che vanno avanti da solo in forma automatica la tecnica è perfetta certo è il mondo che è costitutivamente imperfetto e chi crede di stare nel mondo con la tecnica perde perché non afferra rifiuta teme teme l'irrazionalismo etico del mondo non lo vede cioè non vede che a questo mondo la politica non la si fa soltanto con la responsabilità calcolando le conseguenze del proprio provando a calcolare le conseguenze del proprio agire come vedete siamo sempre all'interno di una concezione individualistica volontaristica della politica cioè c'è qualcuno che fa politica e che deve essere certamente capace di calcolare le conseguenze del proprio del proprio agire certo dopodiché deve se vuole fare politica nel modo efficace cioè vincere ecco deve essere capace anche di fronteggiare di fronteggiare l'altro aspetto della realtà inizialità tra tutte le virgolette cioè l'aspetto della irrazionalità costitutiva e se sei un politico che vuole vincere a un certo punto devi essere capace di decisione cioè di fare qualche cosa che non è razionale cioè la ragione politica convergente con la ragione economica convergente e forse tutte e quanti con la ragione tecnica con l'automatismo della burocrazia della produzione questa è è qualche cosa di superficiale la potenza della superficie ma ma sotto sotto ribolle la immaterialità la infondabilità della storia è un pensiero politico in cui la politica è ancora ha ancora a che fare con il destino allora qui Weber che è una persona seria continuamente dice che bisogna sapere che si ha a che fare con il destino da una parte e dall'altra bisogna sapere che la politica non può passare se non attraverso le potenze della tecnica per cui i socialisti via perché i socialisti via perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i Bordesi non hanno alcuna immaginazione alcuna idea non sanno quello che fanno credono di essere alternativi e invece sono dentro le stesse logiche e questo è una posizione reazionaria da sempre la troviamo come leitmotiv del pensiero reazionario di lì a un paio d'anni sono cose che dice Cashman borghesi socialisti sono la stessa cosa però non come lo dicevano i pensatori della destra che contrapponevano a questa simbiosi no borghesi socialisti lo spirito nazionale o che so io ai mercanti contrapponevano gli eroi qui la tesi di vedere la politica è una cosa seria deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione che sono stato capitalismo produzione industriale tecnica burocrazia tutto quello che è dall'altra bisogna sapere che queste realtà queste procedure queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo cioè il successo non basta detto in un altro modo che la politica continua ad avere bisogno di un umanesimo impossibile continua ad avere bisogno di una proiezione in grande di un disegno e di un ideale che le persone serie sanno che è impossibile mentre i poco serici credono e fanno le rivoluzioni come quelle che l'aveva inorridito la rivoluzione in Baviera che era fatta da quelli che noi oggi chiameremo fricchettoni che predicavano un mondo di da figli dei fiori dall'altra il perfetto tecnocrate lo sappia è uno che perderà infatti la Germania che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio la Germania perderà la guerra perché non sa fare la politica la politica non è questa cosa questo è lo strumento della politica il termine famoso con cui si chiude la sua antinopera non importa continuare il grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti ma perché crede che la politica è il destino e che il destino è il potere e che il potere prende la forma del sapere tecnico dell'agire tecnico che è una forma inevitabile e al tempo stesso una forma insufficiente e non c'è modo di uscire da questa contraddizione non è